carissimi amici del canale telegrama dentro la notizia la malvagità dell'elita al potere va ben oltre ogni più fervida fantasia e per quanto possa sembrare incredibile quanto state per vedere ed ascoltare è ben documentato da ben nove articoli scientifici commentati dal dottor william meckis l'elite hanno notato con preoccupazione che centinaia di milioni di persone in tutta la terra hanno lottato duramente per evitare le loro terapie sperimentali e allora cosa hanno pensato bene di fare è una cosa di cui abbiamo già parlato ma ora sono uscite delle novità e se ne parla sempre più esplicitamente inoculare gli animali maiale manzo gamberetti il nostro cibo ascoltiamo qual è il parere medico scientifico del dottor machis e poi vedremo cosa possiamo fare potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su telegram e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro Roby